Consideriamo più di sponsor l'ENI, Dario Pagani, Executive Vice President di ENI ICT. Prego Dario, bentornato. La prima volta che l'ENI è arrivata alla Maker Faire ho detto ma che c'entra l'ENI con la Maker Faire? Poi abbiamo scoperto che c'entra tanto. C'entra, c'entra, c'entra come, c'entra come. Infatti crediamo tantissimo nella nostra partecipazione come main partner. Come vi è cambiato la presenza di Maker Faire? Una volta mi raccontavi che avete cambiato anche approccio verso l'innovazione. Abbiamo cambiato molto approccio perché abbiamo anche, se vogliamo, internalizzato alcuni concetti. Ci sono dei Maker dentro l'ENI. Ci sono dei Maker dentro l'ENI in questo momento qui. Per cui abbiamo portato quella che è l'energia della creatività. Poi se pensi ci siamo incontrati perché società energetica, energia delle idee della creatività, uno sposalizio perfetto. Poi uno dei settori in cui i Maker sono più attivi e più interessati, la sfida energetica, la sfida della sostenibilità. Infatti quest'anno portiamo la ricerca nostra su le energie rinnovabili, che potete vedere lo stand, e l'efficienza energetica. E il digital direi che è la leva fondamentale, l'opportunità fondamentale per poter fare efficienza energetica. Che cosa si vede al vostro senso quest'anno? Ma si vede un concept generale che noi abbiamo nominato Digital Energy Life, perché pensiamo che appunto il digital possa fare la differenza in diversi aspetti della vita di ciascuno di noi. Per cui sia quando opera in azienda, l'abbiamo nominato Digital Employee, per cui abbiamo realizzato un concept di un braccialetto che consente ai nostri dipendenti di portare con sé la loro cartella sanitaria. Noi sai che operiamo in giro per il mondo in situazioni anche in luoghi abbastanza sfidanti. Di conseguenza questo braccialetto ci permette in caso di necessità di poter essere sempre connessi e avere l'assistenza. Non sai che soddisfazione mi dà per uno appassionato di digitale come me sentir parlare di digitale Leni, che era una cosa che fino a qualche anno fa erano due mondi diversi, separati. Poi se parliamo invece in termini di sostenibilità, l'altro tema molto caro è quello del Digital Earth, per cui cosa abbiamo realizzato, abbiamo pensato e potete vederlo. Noi dove operiamo in giro per il mondo, operiamo anche a sostegno delle comunità locali, per cui le prime cose che facciamo produciamo per esempio pozzi d'acqua. E una volta prodotti i pozzi d'acqua non è che sia sufficiente rendere disponibile appunto questa risorsa, ma abbiamo pensato anche di poterla monitorare. E qui l'interno delle cose, i sensori sono proprio direi la soluzione migliore, per cui rendere visibili le caratteristiche chimico-fisiche dell'acqua e di conseguenza... Che padiglione siete? Siamo al padiglione 6. Bene, buona mica ferro a dare. Grazie.